Una strategia innovativa per creare opportunità di sviluppo turistico e commerciale coinvolgendo una rete internazionale, università, istituzioni e operatori al centro di due distinti progetti condivisi con la regione e con l'azienda di soggiorno e turismo di Termoli. Le iniziative sono state presentate proprio nella sede dell'Unimor che si apre sul mare come segno di un impegno condiviso tra le realtà della costa adriatica. Mettere insieme delle imprese turistiche nostre del territorio con imprese pugliesi, imprese del Montenegro, imprese dell'Albania in maniera tale da creare un gruppo che possa anche lavorare per migliorare le proprie condizioni e iniziative e per fare in modo di aumentare la clientela. Il discorso è semplice, è un percorso che va fatto in due anni, è un percorso molto interessante. Territori, accordi di impresa con azioni pilota, workshop, eventi e laboratori sono numerose le attività in programma condivise con la rete interregionale. Attraverso azioni di formazione, di ricerca, l'obiettivo fondamentale è quello di aiutare gli operatori turistici molisani a implementare buone pratiche nello sviluppo turistico sostenibile e innovativo. Quindi un insieme di iniziative mirate a formazione, ricerca e valorizzazione delle buone pratiche nell'innovazione e la sostenibilità del turismo. L'obiettivo è anche quello di individuare i possibili canali di richiamo per i flussi turistici e commerciali. Se vogliamo ampliare il nostro bacino d'utenza è evidente che dobbiamo lavorare sul mercato italiano ma anche intercettare quelle fette di mercato, quelle nicchie in giro per l'Europa almeno che vedono nel Molise una terra interessante da PIL. Quindi sicuramente innovazione anche come proposta di un'offerta competitiva e attraente per determinati mercati.